Le differenze nel gruppo chiaramente sono di età, l'età media è molto più bassa rispetto a quella che c'era durante ma anche subito dopo il mondiale, sicuramente non ci sono più giocatori di esperienza come Zanni, come Ghira, come Sergio, il bene è però che ci sono molti giovani talentuosi che comunque si aggiocano a un livello alto e quello del Pro 14 hanno la possibilità di mettersi in mostra e di crescere ogni settimana. Sicuramente stiamo vivendo un ricambio generazionale e penso che sia inevitabile in tutti gli sport e in tutte le squadre prima o poi dover risconvolgere la squadra. Ho avuto questi quattro mesi di stop, sono stati abbastanza lunghi ma comunque sia l'affetto e lo starmi vicino sia dai ragazzi che dallo staff c'è stato, mi sono sentito spesso con Franco durante la Nation Cup e anche con i ragazzi sono stati sempre in contatto. Sono stato lontano per problemi fisici ma sempre vicino ai ragazzi con il cuore e con tutto me stesso. No, abbiamo avuto una buona settimana e partire titolare sicuramente mi dà una carica per sabato molto importante. Non vedo l'ora di scendere in campo ai ragazzi visto che appunto è un anno che non ho la possibilità tra Covid e problemi fisici di giocare e sicuramente non sono al 100% sul ritmo partita e a livello fisico ma mi sento bene, mi sento di poter dare quel contributo di cui ha bisogno la squadra. Quindi non vedo l'ora di scendere in campo sabato. Penso che all'Olimpico arriverà una Francia con l'ambizione di vincere il 6 nazioni e noi sicuramente andremo in campo con l'obiettivo di rovinargli la festa. Ci siamo allenati molto bene questa settimana, c'è un buon feeling tra di noi. Tutti gli allenamenti ci siamo sentiti molto confidenti, soprattutto da martedì che ci siamo un po' iniziati tutti a gregare anche chi aveva giocato il sabato e quindi penso che comunque se ci sarà una grandissima battaglia davanti, cosa che nelle ultime partite c'è sempre stata e dopodiché penso che i nostri tre quarti fuori dovranno fare la differenza contro il loro dopo il nostro duro lavoro davanti. Grazie